Teledeon venne ad immortalare la posa della prima pietra, la cerimonia di inaugurazione di questo cantiere. Alle sue spalle ora è un'opera finita e in piena attività. È sicuramente un'opera straordinaria per tutto il territorio. Ovviamente non è merito di uno, ma è merito di tutti, di una bella squadra formata dai genitori di ragazzi disabili che ci tengono molto, che i loro figli devono stare non bene, benissimo. Noi siamo determinati, grintosi, molto spesso viene presa la grinta per rabbia. No, nessuna rabbia in noi, nessuna invidia. La nostra determinazione, volontà a riuscire che i nostri figli devono stare bene quando noi purtroppo non ci saremo più. Scherzosamente io dico che il primo ad andarmi dovrei essere io, a 79 anni. Però ci sono validi elementi della squadra che hanno già dato e daranno sempre tutto. Grazie all'intervento volontario degli artisti di cui è presente il cantante Pietro Simone abbiamo organizzato questo concerto lirico in beneficenza per raccogliere fondi per completare la costruzione di questa nuova struttura. La nostra storia inizia veramente da molto lontano. Abbiamo iniziato con appartamenti che abbiamo preso in fitto. Finalmente nel 2006 siamo riusciti a costruire, grazie ad un bando, dei quali ci siamo risultati aggiudicatari della regione Puglia, siamo riusciti ad iniziare a costruire questa struttura. Il nostro investimento all'incirca è di circa un milione e mezzo. La regione ha partecipato però solo per il 44%. circa 450 mila euro è l'importo che hanno donato, che abbiamo donato tutti noi familiari. Abbiamo ancora una quota che manca nella costruzione e in questa parte qui, per poter colmare e completare la struttura, abbiamo veramente intorno a noi, così come diceva il precedente, dei vari amici, tra cui per esempio Pietro Simone, che ovviamente si sta impegnando con noi e tutto il raccolto del concerto sarà devoluto al completamento della costruttura. Io sono nato qui, pur non vivendoci più, però ovviamente il cuore è qui. Soprattutto davanti a certe tematiche, io credo sia quasi impossibile restare indifferenti. È una selezione di aree d'opera, ovviamente tra le più popolari, famose, e duetti, terzetti, quindi c'è un bel purpurì di brani celebri. Diamo l'appuntamento. Vi aspettiamo tutti sabato, 27 giugno, ore 20 e 30 al Politeama. Mi raccomando, dobbiamo essere in tanti, dobbiamo essere numerosi. Grazie.